Cosa ne pensi della castità coniugale e della castità nel fidanzamento? Scrivi tipo... La castità è fondamentale, punto. L'atto porta solo al piacere fisico e basta, e quindi non ti permette di guardare l'altro incondizionatamente. Vabbè, però non ho già scritto da nessuna parte che non lo puoi fare. Sì, basta che resti vergine. Con tale intenzione che ci metti. Tipo? Sì, tipo... Vabbè, ma che vuol dire che non la potrebbe vedere? Poverina. Sì, vabbè, certo, sempre poverina. Ma raga, ma che ha fatto? Fa i bambini. Ma chi? Ma Nicolò? Non sono nemmeno fidanzati i fidanzati. Non si parlano nemmeno più. Volebone. Se vabbè, tutto ciò è un buon Jaclyn. Fa i bambini.